Nel 2013 morì il figlio Luca all'età di 22 anni per un aneurisma. Il 29 agosto 2016 toccò alla figlia Eleonora, volata in cielo per una leucemia linfoblastica acuta. Tragedie che negli anni hanno annientato una famiglia di bagnoli di sopra, nella bassa padovana. Mamma Rita Benini e papà Lino Bottaro, 54 e 66 anni, vivono ogni giorno in lutto per la scomparsa dei due figli. Ma a rendere ancora più drammatica la situazione è l'accusa di omicidio colposo che pende sulla loro testa. I due infatti sono stati accusati per non avere sottoposto la figlia, allora 17enne, alle cure chemioterapiche. Di queste ore la notizia che è stato bocciato il ricorso, di forma e non di merito, fatto in cassazione dai genitori di Eleonora sulla sentenza della Corte di Appello che li rinviava a giudizio. Non ci sono dunque vizi di legittimità procedurale e il processo in cui si potrà valutare la colpevolezza degli imputati sarà il 7 febbraio in tribunale a Padova. L'avvocato Raffaella Giacomina annuncia battaglia nel dibattimento. Saranno moltissimi i testimoni che racconteranno la verità sulla vita di Eleonora e spiegheranno in che modo è maturata la sua decisione di non farsi curare, seguendo quindi la medicina alternativa. Sulla base di quanto ha dichiarato l'avvocato a telecamere spente, la difesa punterà su alcuni principi fondamentali, la libertà di scelta del trattamento sanitario che non può essere imposta, chi rifiuta le cure infatti non commette reato, la libertà di autodeterminazione di Eleonora, che all'epoca era quasi maggiorenne ed era da considerarsi dunque una giovane adulta, in grado di poter scegliere di rifiutare la chemioterapia. Infine si vorrà porre una riflessione sui rapporti umani, ovvero sulle modalità alquanto discutibili con cui i medici si sono rapportati al paziente e alla famiglia, seriamente provata dalla malattia.